Allora, eccoci, buonasera. Ecco, la nostra protagonista di primo piano è l'onorevole Tiziana Nessini. Dire Nessini significa dire lavoro e quindi di conseguenza è un tema che ad Alice si interessa moltissimo. Com'è la situazione oggi in Italia? Positiva, negativa? Allora, diciamo che negli ultimi mesi i dati dell'occupazione sono di fatto migliorati, ma il fatto che siano migliorati non è che sia risolto un problema, perché il problema dell'occupazione, il problema del mismatch, il problema della mancanza di formazione adeguata. Bellissimo, lei ha fatto già tutti i titoli dei temi che noi tratteremo. Allora, per aiutarla, vediamo questo servizio sul mercato del lavoro. Il mercato del lavoro resta vivace nonostante il rallentamento dell'economia. Nei primi sei mesi del 2023 sono stati attivati quasi 4,3 milioni di contratti di lavoro a fronte di quasi 3,3 milioni di cessazioni per un saldo positivo nel periodo di un milione di rapporti di lavoro. Il dato, si legge nell'osservatorio dell'Inps sul precariato, risente in gran parte delle attivazioni di contratti a termine e stagionali, ma c'è comunque una variazione netta positiva tra inizi e chiusure di contratto di oltre 292 mila rapporti a tempo indeterminato, dato superiore a quello dei primi sei mesi del 2022. Il sottosegretario al lavoro, Claudio Durigon, rivendica questi dati come il segno che le politiche del governo stanno funzionando, sottolineando che sono tornati un clima di fiducia e la cultura del lavoro. Ma la CGL, con il segretario Maurizio Landini, segnala come ci sia un'emergenza di salari bassi insieme al peggioramento delle condizioni di vita e lavoro. Secondo l'osservatorio Inps, su 4,3 milioni di attivazioni nei primi sei mesi dell'anno, solo 2,75 milioni sono full-time, mentre il resto è con contratto part-time con un'incidenza del lavoro parziale del 35,7% sul totale, sostanzialmente in linea con lo stesso periodo del 2022. Beh, insomma, vediamo bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, perché il tema è un milione di posti di lavoro in più, che insomma è una cifra che veniva utilizzata anche come slogan elettorale qualche decennio fa. Però dopo di che c'è un tema dei salari bassi. Dove vogliamo incominciare? Dal positivo o dal negativo? Dal negativo? Dal negativo, salari bassi. Ecco, allora, lei mi dica un poco, salario minimo perché non siete d'accordo nel governo? Allora, noi abbiamo chiesto una discussione molto più ampia in tema di salari, perché non si può ricondurre la retribuzione dei nostri lavoratori a un salario minimo. Questo perché in Italia c'è da decenni la contrattazione collettiva, una contrattazione collettiva che ha portato ai lavoratori non solo... Nella contrattazione collettiva non si parla solamente di minimo salariale, ma ci sono tutta una serie di benefit, di tutele a favore dei lavoratori che le parti datoriali con le parti sindacali hanno costruito nel corso dei decenni. Secondo lei, bocciare il salario minimo, sono d'accordo tutti, anche gli imprenditori? Cioè, il mondo dell'impresa è compatto con voi oppure sente anche nel mondo dell'impresa voci discordanti? Ma noi abbiamo fatto in Commissione Lavoro alla Camera tutta una serie di audizioni e abbiamo cercato di invitare più auditi possibili, proprio per far emergere tutte le criticità e comunque le osservazioni che arrivano sia dalla parte datoriale che dalla parte sindacale. Anche dalla parte sindacale non sono tutti così concordi sul fissare per legge un salario. E questo perché? Perché i settori non sono tutti uguali. Noi abbiamo il comparto dell'industria che comunque ha una percentuale di contrattazione collettiva in essere con dei salari minimi che sono superiori ai 9 euro. Cioè, mi viene da dire, il mondo dell'agricoltura, che è un mondo che sta vivendo, vive in sofferenza per tutta una serie di problemi e anche causati dalle politiche europee. Ma non è che c'è nel governo una paura? Cioè, il salario minimo oggi è in quasi tutta Europa, tranne estremamente appunto che l'Italia sta sulle posizioni dei paesi del nord Europa, dove in molti non c'è il salario minimo. Ma avete paura che faccia crescere troppo i costi del lavoro? No, allora, diciamo che il governo non è che ha paura. Il governo sta usando il buon senso. Buon senso perché, come dicevo prima, non si parla solo di minimo salariale. E il fatto che i lavoratori italiani vengano abbracciati per il 97% circa dalla contrattazione collettiva, il rischio di applicare per legge un salario minimo porterebbe a una fuoriuscita dalla contrattazione collettiva, andando a nuocere proprio gli stessi lavoratori. Perché con la contrattazione collettiva si parla dei fringe benefit, che questo governo, seppur non in maniera strutturale, ha aumentato fino a 3.000 euro per i lavoratori con figli, con la volontà anche di ampliare la platea ai lavoratori senza figli. Si parla di ferie, di tredicesimi, di quattordicesimi, di roll. C'è tutta una serie di istituti che accompagnano e sono all'interno della contrattazione che col salario minimo per legge probabilmente andrebbero persi, perché proprio se l'imprenditore ha la possibilità di spendere meno. Perché non dovrebbe spendere meno? A danno di chi? Del lavoratore. Ma visto che noi abbiamo comunque un tessuto economico produttivo valido, consapevole e forte, i datori di lavoro stessi si pongono il problema. Sì, anche se c'è un problema, e voi avete fatto al governo anche nell'iniziativa dell'abbattimento del cuneo fiscale, a proposito, ma riuscirete a mantenerlo oppure a tempo determinato? Allora, la volontà del governo è quello di mantenerlo così come tante altre misure. Noi abbiamo visto anche con il DL caldo, il DL temperature che abbiamo licenziato non più di dieci giorni fa alla Camera, come se abbiamo inserito per alcuni settori, quelli più esposti alle alte temperature, una deroga alla Cassa Integrazione Ordinaria, per gli edili, per l'escavazione, per il lapideo, per il mondo dell'agricoltura. Sono tutte misure che non erano mai state fatte. Ovviamente c'è un problema di risorse. Sì, noi arriviamo da due anni di Covid, dal caro energia, caro materie prime, dove il governo ha messo in campo tante misure per far sì che il tessuto reggesse, che le famiglie continuassero ad avere una vita delitosa. Avete problemi di bilancio anche adesso, da mantenere il debito entro il 4%. Il problema delle risorse c'è sempre stato, ora più che mai. Nonostante questo abbiamo messo in campo, seppur non in maniera strutturale, tutta una serie di misure che chiedeva al mondo dei lavoratori, chiedeva al mondo delle imprese, con la volontà di renderlo strutturale. Ma questa è la linea che il governo si sta dando, sta già tracciando la strada per le misure che sta mettendo in campo per proseguirle anche. Senta, onorevole Nisini, ho detto che lei è un aspetto al mondo del lavoro, perché è vicepresidente della Commissione Lavoro, durante il governo Draghi è stato sottosegretario al lavoro, insomma, la parola al lavoro è il suo secondo cognome. dopodiché lei è una staccanovista, perché se non sbaglio, nello scorso governo, lei ha avuto assenza al voto per lo 0,8%. Cioè, significa, la media è 8% per giù per tutti i quadri, quindi significa che lei stava sempre là. Vabbè, chi è in Commissione Lavoro deve dare il buon esempio, non si parla di lavoro. No, vabbè, però, insomma, è un parlamentare così presente, no, 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 non sempre. Io da parecchio tempo seguo la politica e devo dire la verità, che lei è una staccanovista. Però, ecco, qual è, secondo lei, il tema più caldo del mondo del lavoro? Io le propongo uno, il mismatch che c'è nel mondo del lavoro. Cioè, noi oggi, ma anche in prospettiva, con il panorama del lavoro che cambierà radicalmente con la digitalizzazione, con il progresso e tutto quanto, ci troviamo che molte aziende non hanno le persone giuste al posto giusto, perché non ci sono competenze in tal senso. Le dico una su tutte, la Grimaldi sta lanciando per l'ennesima volta una politica di recruiting in diverse città italiane per trovare personale marittimo nei vari comparti del personale marittimo. In tal senso il governo che sta facendo? Allora, diciamo che il tema del mismatch, il tema della mancanza di personale riguarda tutti i settori, sia quelli più specializzati che meno specializzati. Io, quando non sono a Roma, cerco di stare sul territorio anche per poi portare avanti, portare a Roma le istanze del territorio. E anche nella... Nella sua Toscana. Nella mia Toscana. Io sono adottata a Toscana, però si vive in Toscana da 23 anni. E la Toscana che vive di turismo, nonostante sia una delle regioni più belle del mondo, con dei borghi straordinari, ristoratori, albergatori, soffrono della mancanza di personale. Ma il tema è che nel nostro paese, noi siamo sempre stati un paese di lavoratori. E qui ci metto anche la politica. Misure sbagliate della politica non è che vanno a incidere solamente sulla carta, sui contratti. Hanno inciso sulla mentalità delle persone. Perché mentre in passato la gente voleva andare a lavorare e non si chiedeva poco, giusto, sbagliato, non entro nel merito, ma voleva lavorare, adesso c'è stato questo arretramento culturale dovuto anche in gran parte al reddito di cittadinanza. Per cui la gente si è trovata a un bibio che faccio lavoro o sto a casa e mi arrangio con lo stipendio di Stato. Penso che insomma si sia capito che la componente lavoro è fondamentale. Ha creato problemi. Tant'è che il governo è intervenuto modificando radicalmente il sistema di sussidi del nostro paese e incentrando tutto sulla formazione. Perché è quello che manca. Il mismatch è dovuto anche a una mancanza di formazione. Una formazione che è sempre stata fatta, ma una formazione perché si doveva fare una formazione a catalogo. Sì, spesso erano corsi di formazione dove si fermava. Fine a se stessi. Parliamoci chiaramente. Ma quando questo tema investe il mondo dei trasporti e della logistica, quando ci troviamo 30.000 potenziali autisti in meno con un'età media fortissima nel mondo dell'autotrasporto, quando ci troviamo sulle navi che mancano delle figure fondamentali sia da un punto di vista tecnico che in quello come lei già ha accennato alberghiero. Ecco, ci poniamo il problema anche di come va l'istruzione, cioè degli ITS. Voi avete agito in tal senso, però basta. Sì, no, allora, noi abbiamo agito anche col Ministro Valditara perché bisogna agire prima. Bisogna agire già nell'età scolare dei nostri ragazzi, anche nelle scuole primarie. Il Ministro Valditara ha firmato a fine dicembre un decreto dove ha messo in campo ora al numero intorno ai 40.000 docenti, docenti tutor che servono per aiutare i ragazzi e orientarli in base alle loro capacità, alle loro desiderate, alle loro ambizioni e dei docenti che vanno a accompagnare le famiglie perché il vero problema è che i ragazzi quando escono dalla scuola non sanno cosa fare. E nel 2022 la perdita di valore aggiunto è stata di 37,7 miliardi per il mismatch che c'è nel mondo del lavoro. Sono praticamente due manovre fondamentalmente. Cioè, agire in tal senso significa risolvere anche i problemi dell'Italia. Allora, io sono innamoratissima Ma il rapporto con l'impresa della politica in tal senso Io sono innamoratissima degli ITS per cui che sono un percorso formativo che in Italia è sempre stato comunicato Ma è fondamentale il dialogo con l'impresa in tal senso? Eh sì, l'ITS è Parlate con le imprese? Sì Poco? Ma, sa, noi abbiamo allora, noi abbiamo questo strumento degli ITS che va rafforzato. Cioè, con il PNRR c'è stato un rafforzamento c'è stata una modifica passando dai TS Academy e quello è il modello che deve essere preso ad esempio senza nulla togliere all'università. Però l'ITS è proprio il dialogo tra scuola e impresa. Quello che è sempre mancato perché... Presidente, la base di Alice Academy la conosce esattamente Alice Academy è la nostra sezione spesso è stata invitata anche a parlare di questo e con questo. Senta, io voglio fare siamo in conclusione però non posso che farle una domanda sull'intelligenza artificiale. C'è che sarà il tema Meloni ha già detto che sarà il tema il G20 prossimo presidenza italiana però è il tema fondamentale. Ci sono due partiti quello che la vede positivamente cioè sfrutteremo ancora di più cresceremo ancora di più è quello che la vede come un pericolo per il mondo del lavoro. Lei come la vede? Allora, io sto seguendo un po' questo tema visto che c'è stato anche uno studio di Confartigianato che è molto preoccupata sul fatto che con l'intelligenza artificiale prevedono importanti perdite in termini di manodopera però secondo me noi dobbiamo rimanere al passo con la tecnologia e con gli strumenti che ci vengono messi a disposizione ovviamente non facendoci dominare ma dominandoli e questo si fa con delle norme ben precise e complete per regolamentare proprio l'intelligenza artificiale ed è per questo Il pianeta uomo sarà sempre al centro del discorso? L'uomo deve essere sempre al centro perché la macchina lavora sull'esistente la creatività al futuro e le idee arrivano necessariamente dall'uomo quindi va trovato un equilibrio tant'è che alla Camera grazie al Presidente dell'attività produttiva Alberto Gusmeroli sta iniziando un'indagine conoscitiva proprio sull'intelligenza artificiale per mettere in evidenza tutti gli aspetti critici gli aspetti positivi e poi tirare le fila per riuscire poi a per iniziare a normarla perché comunque è diciamo che è una cosa nuova tutte le cose nuove Lei ha paura delle cose nuove? No però ho i miei tempi io le devo metabolizzare le devo studiare e poi Senti io voglio concludere una certa maniera perché l'ho presentata come staccanovista però lei un po' di tempo libero ce l'ha e io le voglio far vedere una fotografia ecco questa me lo spiega mi controllate insomma noi la controlliamo e vediamo che la sua attività non si limita al mondo del lavoro ma anche al mondo appunto dell'associazione del volontariato quanto è importante spieghi innanzitutto di che cosa si tratta e poi quanto è importante il volontariato anche nel mondo della politica beh il volontariato è importante qui mi trovo domenica mattina all'ospedale di Poggi Vonsi per la donazione c'è la donazione di sangue e donazione di plasma io mi fisso il calendario con sei mesi d'anticipo e quella data è sacra perché se uno la sposta poi non non la rimedia io abito a San Gimignano quindi questa è la fratres di San Gimignano mi sono fatta coinvolgere fa bene agli altri ma fa bene anche noi stessi dare un po' di tempo dare speranza e fa bene a lei e fa bene anche alla gente e alla popolazione italiana vedere che ci sono politici che non pensano solamente giustamente a lavorare ma che prestano anche attenzione ai problemi degli altri io la ringrazio grazie a voi e noi sicuramente alla prossima a parlare di lavoro a presto a presto